Voto amministrativo, eletti i primi cittadini di San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. Cosimo Annunziata, dopo i precedenti tentativi, riesce ad intossare la fascia tricolore di primo cittadino della cittadina marzanese. La spunta sull'onorevole Andrea Annunziata e sul colonnello Gaetano Mautone. Ringrazio chi non ci ha votato, ringrazio chi ha partecipato a queste elezioni. Grazie a tutti, grazie a tutti. Un messaggio che vuole essere anche una promessa per la città ancora prima di cominciare. Il messaggio sarà sicuramente l'impegno totale che dedicheremo a questa città e l'impegno a lavorare assieme alle minoranze e a tutte le forze politiche del paese. Succede a se stesso Felice Luminello. La corazzata messa in campo dal suo livale di sempre Michele Strianese non è servita per neutralizzare il buon governo del medico internista sanvalentinese che si appresta a governare la cittadina per altri cinque anni.